E iniziamo con la domanda di Flavio. Flavio? Sì. Caro fratello Giuseppe, io sono Flavio, ti seguo da un po'. Mi piace il tuo programma, quindi grazie per l'informazione che ci dai, sia sul mondo che sulla parola di Dio. Che Dio ti benedica e continui ad aiutarti nel tuo viaggio. Volevo chiedervi della misteriosa Babilonia, di cui parla il libro delle rivelazioni di Giovanni. Babilonia. Mi chiedevo se il candidato più adatto per essere Babilonia la prostituta era la rabbia. La rabbia. E il vino con cui tutti subriacano con lei, credo, rappresenti il petrolio. Cosa ne pensi, fratello? Dopotutto, l'America non è perfetta, ma almeno in America i cristiani sono liberi di adorare il Signore Gesù Cristo senza essere uccisi. Sì, però stanno perdendo molto velocemente. Ci sono dei pastori americani che sono stati imprigionati, perché hanno predicato in un modo che le autorità di sinistra della loro città non approvavano. Lo vediamo nei telegiornali americani. Dei pastori imprigionati perché loro predicavano contro le perversioni sessuali. Voi avete capito quali. L'hanno messo in prigione. Quindi non è che l'America. L'America non è più l'America di una volta che predicava e in parte praticava la democrazia. Oggi l'America era... Da quando l'America ha ricettato Dio sta avviando velocemente a Sodoma e Gomorra. Va avanti con... C'è qualcos'altro che dice? Sta citando Apocalisse 17, 1 a 18. Lo cita lui? Sì. Va bene. E quindi... La domanda è, tu credi che il candidato più adatto per essere Babilonia la prostituta è la rabbia? Vabbè, legge Apocalisse 17, 1 al 18. Allora uno dei sette angeli. Allora... C'è una scrittura che ti manda lui, no? Sì. Allora uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse Vieni, ti mostrerò il giudizio della grande prostituta che siede su molte acque con la quale i re della terra hanno commesso immoralità sessuale e del vino della cui immoralità sessuale si sono ubriacati gli abitanti della terra e mi portò via nel spirito in un deserto e vedi una donna seduta su una bestia scarlatta che era piena di nomi blasfemi e aveva sette teste e dieci corna. Sappiamo che questo è il diavolo, no? Sette teste e sette imperi mondiali mondiali, non imperi, imperi mondiali e i dieci corna, 16 nazioni europee che sostenono l'anticristo. La donna era vestita di porpora e scarlatto e adorna d'oro, di gioielli e di perle e teneva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle impurità della sua immoralità sessuale e sulla sua fronte era scritto un nome di mistero Babilonia la Grande madre delle prostitute e degli abomini della terra Apocalisse 17 Bene, questa è una citazione stralcia dice Apocalisse 17 Bene, va bene, senti Flavio guarda, noi leggiamo in Apocalisse 17 e 18 Cosa dice Angelo? Ma lo legge Apocalisse 17 e 18? Apocalisse 17 verso 18 E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra Apocalisse 17 verso 18 18 E i riferimenti dobbiamo scandirli molto molto chiari perché ci hanno scritto dei fratelli Una sorella, sorella romena, dice che parla italiano abbastanza bene Dice dovete leggere le referenze più chiare, molto più chiaro Sì perché lei sta prendendo appunti Faremo del nostro meglio, grazie per la tua correzione dolce sorella Io ti benedico Allora, verso 18 abbiamo letto che la donna è Questa donna, la Babilonia, è Cos'è? È la gran città che impera sui re della terra Apocalisse 17 e 18 Quindi questa donna impera, comanda, domina i re della terra Allora tu dici l'Arabia perché petrolio eccetera Sì Ma io dico no, l'Arabia non è Babilonia che impera sui re della terra Non impera L'Arabia non impera sui re della terra Ma lo è invece, cos'è che impera sui re della terra? Il materialismo americano Il materialismo mondiale è basato in Nova York Ha preso uno slancio grandissimo alla fine del XIX secolo XIX secolo E' ancora più grande nel XX E' ancora di più dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale E praticamente si è sparsa dappertutto Un veleno che si è sparsa dappertutto Un'adorazione del denaro si è sparsa dappertutto Compreso l'Italia Continuiamo a leggere verso 11, Angelina, 12 Dunque sì, 11, 12 Apocalisse? Fino al 13 Leggi queste tre scritture Apocalisse 18, 11 a 13 Apocalisse 18, 11 a 13 Sì, i mercanti? I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei Perché nessuno compra più le loro mercanzie Quindi questi sono i mercanti di tutto il mondo 12 Mercanzia d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto E ogni sorta di legno odoroso E ogni sorta d'oggetti d'avorio E ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo E di rame, di ferro e di marmo E la canella, e le essenze, e i profumi, e gli unguenti, e l'incenso, e il vino, e l'olio, e il fior di farina, e il grano, e i buoi, e le pecore, e i cavalli, e i carri, e i corpi, e le anime d'uomini Apocalisse 18, da 11 a 13 Quindi, questa è una lista di cose che l'Arabia non è assolutamente conosciuta per commerciare Ce le avrà anche queste cose Ma non è, diciamo, una nazione che si arricchisce o arricchisce gli altri Va bene, per queste cose Lino fino, seta È un po' di tutto qui Legno, non esclude niente E qual è la nazione che ha tutte queste cose? L'America, lì c'è tutto Sono 50 stati, circa Grandissimi È un posto che... È un paradiso terrestre quando hanno iniziato lì È una zona perfetta Cioè, quindi l'America calza perfettamente L'Arabia, l'Arabia Saudita, no L'Arabia Saudita non è conosciuta per arricchire Far arricchire i commercianti di tutto il mondo Tutto il mondo, con queste cose L'America sì Cioè, l'America riceve e vende Quindi qui parla di mercanti che si sono arricchiti facendo business con Babilonia Non è caratteristico dell'Arabia Infatti questa lista è elencata in queste scritture Versi 12 e 13 È molto lunga Mentre la ricchezza dell'Arabia È solamente petrolio, nient'altro Se no sarebbe terzo mondo E quindi queste cose listate Non sono affatto caratteristiche dell'Arabia La descrizione biblica di Babilonia Non si può dunque, diciamo, ascrivere alla nazione Arabia Però la scarpa calza certamente alla prima nazione capitalistica del mondo Che è l'America Guarda, guarda il 15 I mercanti della terra Cos'è che dice verso 15? Apocalisse 18, 15 I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei Se ne staranno da lungi per tema del suo tormento Che angeranno e faranno cordoglio Perché? Perché? 16 fino al 18, guarda E dicendo Ai, ai, ai La gran città che era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto E adorna d'oro e di pietre preziose e di perle Una cotanza ricchezza è stata devastata in un momento E tutti i piloti e tutti i naviganti e i marinari E quanti trafficano sul mare Se ne staranno da lungi E vedendo il fumo dell'incendio d'essa Esclameranno dicendo Quale città era simile a questa gran città? Apocalisse 18, 15 a 18 Quindi è un quadro perfetto dell'America Che sarà distrutta improvvisamente Da un attacco atomico di sorpresa Cioè con i conseguenti funghi nucleari Il fuoco visibile da lontano Le cui radiazioni impediranno le navi di avvicinarsi Quindi questa è una fotografia di quando l'America sarà punita da Dio Vedendo il fumo dell'incendio di essa Esclameranno dicendo Quale città era simile a questa gran città? Va bene Nessuno può equipararsi all'America L'America invece se fosse l'Arabia L'America potrebbe equipararsi a superarla In tutti i sensi L'Arabia sta armando da sempre Storicamente il suo esercito Con armamenti americani Appena comprato aerei americani L'Arabia non produce Come tutti i paesi islamici non producono armi Devono compararli dall'odiato occidente Perché non producono? Ma perché è una religione oscurantista Il 50% dei loro cervelli sono sottovalutati Il 50% delle loro menti sono sottovalutati In che senso? Le donne Loro sottovalutano le donne Cioè le donne non ci sono Donne scienziato Donne insegnanti Donne filosofi Donne inventori Non ci sono Perché le donne sono Maometto diceva che una donna vale la metà di un uomo E questi qua ci credono Quindi non usano tutto il potenziale Non usano tutto il potenziale Era notizia su tutto il giornale del mondo Notizia sciocca Che in Arabia è proprio un'Arabia saudita Uno dei piloti L'unico pilota in tutti i paesi islamici Di un cacciobombardiere Era una donna Ha fatto notizia scioccante Davvero? Sì Quando invece le donne sono superiori agli uomini In tanti campi Non sono uguali di qua Ma sono superiori di là Quindi il femminismo non capisce niente Il femminismo non capisce che la donna non è uguale all'uomo In tutti i campi Perché in certi campi la donna è superiore Sì, sì Ma quando si tratta di guerra no La donna in poesia In cucina Nell'arte Nella filosofia Tante donne sono superiori agli uomini Però non possono poi Gli uomini nel campo maschile Vai a fare un incontro di boxe Una corsa Un'olimpiade Salto in alto Nuoto La donna non è Quindi sa storia dell'eguaglianza È una bugia satanica Le donne sono superiori agli uomini Qua E gli uomini sono superiori di là Maschilismo Femminismo È una bugia del diavolo Avanti Ora torniamo al punto qua Vedendo il fumo dell'incendio Apocalisse 18 e 18 Scammerano dicendo Qual è la città simile a questa grande città? Un perfetto quadro Come vediamo verso 17 I piloti, i naviganti, i marinai Ne resteranno lungi Perché vedranno il fuoco Vedranno il fumo del tormento Cioè l'attacco atomico Che come spieghiamo nel nostro corso biblio Che l'America sarà distrutta Un attacco atomico a sorpresa E appunto profetizzata nella Bibbia Apocalisse 17 e 18 E eccolo qua Un perfetto quadro dell'America Che sarà distrutto Da un'improvviso Un'improvviso a guerra nucleare A sorpresa E abbiamo spiegato nel corso biblio Il grande Cristo Che in base alle scritture bibliche Attaccherà di sorpresa l'America E la distruggerà E appunto Babilonia La parola America non c'è nella Bibbia C'è però Babilonia Perché devi interpretarla E quindi Ci saranno questi funghi nucleari Fuoco visibile da lontano Con le radiazioni atomiche Che impediscono le navi di avvicinarsi Verso 17 Tutti i piloti, i naviganti, i marinai Che traffigliano sul mare Se ne saranno lontani Vedranno Per la paura del tormento Come mai? Le radiazioni Quando è successo a Chernobyl Non ti potevi avvicinare Allora verso 19 Apocalisse 18, 19 E si getteranno della polvere sul capo E grideranno Piangendo e facendo cordoglio E dicendo Ai, ai La gran città Nella quale tutti coloro Che avevano navi in mare Si erano arricchiti Con la sua magnificenza In un momento Ella è stata ridotta In un deserto Wow Apocalisse 18, 19 In un momento Per secoli Non si capiva Come si fa a distruggere La nazione in un momento Finalmente O disgraziatamente Dall'avvento Dalla potenza nucleare Dopo Hiroshima e Nagasaki Tutti l'hanno capito Cioè gli studiosi biblici L'ho capito anch'io Quindi Nota bene Che qui si legge Tutti i colori Che avevano navi in mare Si erano arricchiti Qui vediamo La descrizione Di una nazione Che per raggiungerla A arricchirsi Servono Alle navi Delle navi E solo l'America Calza questa descrizione Perché in Arabia Ci può dare anche via terrestre Si 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 Tutta l'Asia Tutta l'Europa Come arrivavano Le legioni romane Lì camminando A piedi Quindi non è che Possessi vedere le navi Solo l'America Calza questa descrizione Va bene Di grande potenza Commerciale Con la quale Per commerciale Le navi Non è che sono utili No Sono indispensabili Non puoi andare in America A meno che non vai Trasporti tutto con l'aereo Che è lo stesso Si si È sempre una nave Una nave volante No Si si Non puoi andare in America Camminando Dovresti attraversare Polo Nord Se ci riesci E prova a mandare Tutte le tue Masserizze Camion Tir attraverso Polo Nord Non è facile No Quando ti fermi Non vai all'autogrill Alla stazione di Bologna A prendere il cappuccino Devi andare in un igloo Devi costruire un igloo E per scaldarti Mangi il gelato Capito Quindi L'unico modo Per andare In America A fare commercio Tutte le nazioni Che hanno navi E dove sono queste navi Che fanno commercio Con l'Arabia Giusto il petrolio Ma non c'è la cannella L'oro L'argento I piedi preziosi Il legname No E allora Verso 24 Devi Dobbiamo leggere Apocalisse 18-24 E in lei E' stato trovato Il sangue Dei profeti E dei santi E di tutti quelli Che sono stati uccisi Sopra la terra Apocalisse 18-24 Quindi Questa non è l'Arabia Perché Perché Se non altro L'Arabia Questo dice il fratello E' la nazione Più islamica che c'è Questo dice il fratello Flavio Che non è l'America Perché in America Si può adorare Dio liberamente No No caramino No L'America Sta diventando Più anticristo Ogni giorno Assolutamente no Guarda Il sangue Di tutti i profeti Sono trovati in Babilonia Ok Diciamo che è l'America E se l'America L'America C'ha Cos'è Nel 1700 1776 E' stata fondata E come mai C'è anche il sangue Dei profeti Dei millenni Com'è che si spiega Va bene Si spiega Come segue L'Islam E' iniziata Va bene Nel settimo secolo Aumento E non può E non può quindi Calzare questa profezia Perché i profeti di Dio Sono stati martirizzati A partire da quando Da Abele Abele è stato il primo profeta Perché In che modo Profetizza Abele oggi Angela Il suo esempio Ebrei undici Lo dice Ah ebrei undici Il suo sangue Il suo sangue Il suo sangue Ancora profetizza Va bene Quindi I profeti Da Abele in poi Sono stati Uccisi E il suo sangue È in Babilonia Ma chi è a Babilonia Questa donna Che si siede sul diavolo Su Dragone Epoclisti 17 Per essere precisi Guarda Lo spirito Del materialismo Mondiale Di Babilonia Esiste da sempre È stato solamente Nell'era moderna Che si è spostato In America Nel diciottesimo secolo Va bene Ma non è sorto In America Si è semplicemente Spostato lì Praticamente Verso Cioè Alla discesa E caduta Del centro mondiale Del materialismo Che era L'impero Britannico Londra Londra Rimane ancora La seconda Capitale Del materialismo Bancario Allora La fine Del XIX secolo Quando l'America Divenne la prima potenza Mondiale Commerciale E tutto il ventesimo secolo E dopo la seconda guerra mondiale L'America è diventata Babilonia Babilonia non è una donna Che vede la fotografia È uno spirito Un demonio femminile Che si chiamava Che si chiamava Baal Vecchio testamento Del suo materialismo Mammona Nei Vangeli Babilonia L'Apocalisse Materialismo Adesso E questo è Babilonia È uno spirito satanico Ed esiste da sempre Da Abele in poi Caino ha ucciso Abele Per motivi di Qualche interesse L'aveva Per uccidere E l'interesse materiale Certamente non era spirituale Per la gloria di Dio Allora Babilonia Cos'è? È lo spirito Di materialismo egoista Oppressore Che causa Quasi tutti i mali del mondo A cominciare Dalle guerre Leggi Giacomo 5 Andiamo a Giacomo 5 Per favore Sì Verso 1 E ora voi A voi ora O ricchi Piangete E urlate Piangete E Urlate Urlate Per Per le calamità Che stanno per venirvi addosso Ecco Sulla terra siete vissuti Sfarzosamente E nelle baldorie sfrenate Avete impinguato I vostri cuori In tempo di strage Ecco Giacomo 5 1 a 5 Sì 1 a 5 Abbiamo citato 1 e 5 Ma leggetelo tutto E Giacomo 4 1 anche Giacomo 4 1 Da dove vengono le guerre E le contese tra di voi Non derivano forse Dalle passioni Che si agitano Nelle vostre membra Giacomo 4 1 Ecco Grazie Signore Quindi sta dicendo Che Babilonia È uno spirito Che ha esistito Anche prima Della scoperta Dell'America Questo spirito è uno spirito Di materialismo Che ruba i cuori Della gente E li fa diventare malvaggi Uccidere Odiare Perché è il materialismo Che ti fa avaro Esatto È uno spirito Che è un'esca Un'esca del diavolo Che dice Guarda Se tu fai la guerra Contra quella nazione La domini E puoi imporre le tasse I romani non pagavano Le tasse Per secoli Facevano pagare Alle nazioni Che dominavano Quindi anche i romani Fanno parte Dello spettro di Babilonia Assolutamente Tutti gli imperi mondiali Cioè il dragone Sette teste Sette imperi E la donna È sopra il dragone Sopra le sette teste Che cavalca Cioè tutti gli imperi mondiali E compreso l'impero L'impero europeo di oggi L'impero regionale Bruxelliano C'è questa donna Che lo cavalca Quindi questa donna Babilonia Adesso cavalca Innanzitutto l'America Ma anche tutte le nazioni Come il Giappone Come la Cina Come l'Europa È uno spirito Satanico Che dappertutto Ovunque la gente Adora il materialismo Draghi così È il governatore Della banca europea E quindi Lui Cos'è la banca europea Un gruppo Un club Un cosa nostra Di adoratori del denaro A loro mica gli interessa Vendersi il sangue Il sangue Il tuo sangue Cioè loro gli interessa Il denaro Cioè sono adoratori di Baal Che nella Bibbia Quindi lo spirito Lo spirito satanico Di Babilonia Esiste E va attorno A cominciare Il giardino dell'Eden E cosa significa Che in lui Cioè in questa Babilonia È stato trovato Il sangue dei profeti E dei santi Se è uno spirito Ecco Ecco Ci voglio arrivare lì Fammi arrivare piano piano Allora fammi cominciare Il giardino dell'Eden Mi piace andare alla radice Cioè già nel giardino dell'Eden Quando Adamo e Eva Furono cacciati E a cominciare da Caino Che ha uccisi Abele Va bene Lì comincia Lì c'è la tua risposta Perché il diavolo offrì Ad Eva Va bene L'esca Di disubbidire a Dio Per quale scopo? Per mangiarsi una mela? No No Per lo scopo di ottenere Il potere di Dio Il potere di Dio Di rubare il potere Usurpare il potere di Dio Cioè il diavolo gli ha detto Diventerete come Dio Ah caspita Più materialismo di così Non si può Cioè praticamente È un colpo di Stato Sì è vero Altro che Mussolini Marcia su Roma Eva voleva marciare In paradiso A fianco del diavolo Capito? Quindi il massimo Del materialismo Satana l'ha offerto ad Eva Quando gli ha detto Diventerai come Dio Ed Eva Questa sventurata Ha detto Ah suona bene Aspetta che vado a convincere Il mio innamorato Adamo dove sei? Ascolta Solti qua Che bella storia Che mi ha detto Il nostro vicino di casa Il diavolo Senti cosa mi ha detto Ah sì? Ah fammelo mangiare anche a me L'altro disgraziato Capito? Ma siamo tutti disgraziati Tutti ci cadiamo Prima o poi In misure diverse No? E quindi Comincia il giardino Che Caino uccide Abele Eva e Adam e Devo Vogliono diventare come Dio E quindi Perché? Diventare come Dio Per far cosa? Per poter governare Avere potere Comandare Va bene I nostri governanti Autoritari Che usano La pandemia Come scusa Per esercitare Oppressione Potere Sui Su virgolette Sugli inferiori Questo l'hanno capito bene Potere ti dà tutto E lo stesso aspetto di Babilonia Più potente del denaro È il potere Che il denaro Non sempre ottiene il potere Capito? Nonostante tutto il denaro De Berlusconi Non è riuscito a Farsi legge Il presidente Però quando hai potere Prendi il denaro sempre Quindi il potere Più potente del denaro È un'esca È una droga Peggiore del denaro È il potere Quindi c'è Babilonia Che c'ha il denaro Il diavolo c'ha il potere Nel mondo Capisce? E lavorano insieme Ma allora anche l'Italia Fa parte della Babilonia? Sì 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 Caspita Caspiterina C'è un presidente del consiglio Che era governatore Della banca europea Tutti quelli Ha imbustarellato tutti E lo hanno votato Ma allora tutta l'Europa Fa parte della Babilonia? Sì Infatti Babilonia Adesso anche la Cina Si è unito alla cosa nostra Ma come? Allora La Babilonia è tutto il mondo? Sì Certamente Il centro Di Babilonia È Nova York La grande città America Dove ha iniziato tutto Dove ha iniziato tutto Come dire Italy Dominava da Berlino Però la ramificazione Si è spassa in Europa Va bene E allora Lo spirito di Babilonia Va attorno Per il mondo Sin dal giardino Dell'Eda Ha cominciato Quando Satana Gli ha offerto Il frutto A Deiva Cos'è questo qua? E se tu mangi questo Diventi come Dio Garantisco io Io sono Satana E mica posso E mica posso E mica sono Mi può prendere in parole Dio è un bugiato Ma a me mi può credere Come ti chiami Diavolo Ah ho capito Sì Satana si preferisce Ah Lucifero Serpente Ah sì Uh quanti nomi che hai Sì 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 E quella Quella sciagurata E sciagurati noi E allora Cosa fa? Il diavolo Offre Questi nostri Antenati Di disubbidire Dio Tramite l'esca Di ottenere Potere di Dio L'oggetto Ginesi capitolo 3 E va a bocca E da allora Sappiamo Il resto è storia Il mondo senza Dio Va da imboccata Da abboccata Da abboccata Va da esca in esca E comunismo E fascismo E nazismo E multinazionalismo E bruxellismo Draghiismo Paciamamaismo Perché anche Anche la religione Della paciamama Sono a dorare i soldi Pecorelli in chiesa Che ne sanno Gli hanno insegnato Che la Bibbia non si legge L'Apocalisse non si legge Le profezie non si studiano Le profezie non bisogna capire Le robe da protestanti E i protestanti Gli hanno insegnato A scaldare una panca Cioè praticamente Il diavolo Si è messo La religione Nella sua saccoccia E allora Lo spirito di Babilonia È andato spostandosi Capito? È andato spostandosi Dall'inizio Quindi da Eva Si è spostata Ad Adamo Poi si è spostata A Caino E via Via di seguito No? E poi ecco Che si spaggia nel mondo Che Caino Uccide Abele Genese capitolo 4 E la scrittura seguente Dice Uccisi Abele E andò Fuggì E andò A fondare Una città Chi è fondato La prima città? Caino Ecco perché Le città sono Una tale bellezza Virgolette Una monnezza Cioè le città Sono il cancro Del pianeta I tumori E ci sono tumori E ci sono tumori grandi Città del Mese Ci sono 18 milioni Sono tumori Che succhiano Assorbano Il sangue vitale Del mondo Il peggiore di tutti È Nova York Los Angeles San Francisco Pechino Così no? Ecco Le città Sono dei cancri Perché dovete Vivere in un cancro Fratelli Uscite Sono anni Che ve lo dico Sono anni Che il Signore Ce lo dice Uscite Dalle città Quando state lì A pregare Al supermercato Oh Santo supermercato Babbo Natale Prego Che in questo supermercato Ci sia sempre Acqua Cibo Vivere E sì E io che abbia Sempre soldi Per comprare Oh prego Che arrivi il gas Che arrivi l'elettricità Che arrivi l'acqua Ma andatevene in campagna Cosa ci fate lì? Eh ma qui si guadagno soldi Ma cosa te ne fai Dei soldi? Quanti soldi potrei Mestre Nella tua casa Da morto? Non molti Vattene Dove l'acqua è fresca Gli uccelli Volano ancora Dove la sera Puoi prendere la mano Della tua dolcissima Muglia fidanzata O sedete al fianco Di un fratello O una sorella E dire Che bel tramonto E com'è bello Il nostro Dio Com'è grande Il nostro Dio Com'è meraviglioso Tutti insieme Alleluia Gloria Lasciagli le città Lasciagli Lasciagli ai beccamorti Politici Lasciatele ai beccamorti Finanziari Che loro Allora mettendo Si svegliano Fanno colazione Mangiano soldi Alla mattina Lasciategliela loro Signore Gesù Lasciagli Alle religioni Guardateci questo articolo Ho messo l'articolo Dalla stampa Ce l'hai la stampa? Sì Stampa il Vaticano Il Vaticano Vende il palazzo Di Londra La perdita È di 100 milioni Di sterline Ho 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 E capito Il paciamamma Va dal tuo mercato Ho visto la foto Io Tempo Andato a comprare Una busta di plastica Di cibo C'è un mezzo chilo Di pane E quattro fette Di mortadella Aspettato Che le telecamere Piazzate Esce dal supermercato Che le telecamere Clic 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 Si avvicina A un medicante Gli da una busta Da 10-20 euro Di cibo Tutti avanti Le mani Poi va a Londra Ha comprato Questo palazzo Per 150 milioni Di sterline Hanno perso 100 milioni Capito L'ha comprato Per 150 E lo ha svenduto Per 50 Ah sì Una cosa così Perché io ho letto Sui giornali E' 150 Quindi qua dice La perdita La stampa La perdita Di 100 milioni Vuol dire Che l'ha venduta E 50 Hai capito Come lo hanno Come a questi Li prendono Per i fondelli E da dove vengono Questi 150 milioni Di sterline Che saranno 160 Non so Lo stesso In euro Più o meno Da dove vengono I soldi Dai fedeli Dai fedeli Che le danno Alla Madonna A San Giuseppe A Padre Pio A Madre Pia Le chiese Queste chiese Sono piene Di pecorelle Sincere Dolci Che gli hanno Lavato il cervello Non leggete La Bibbia Se non siete Protestanti Non leggete L'Apocalisse Se non diventate Come Frate Giuseppe Che la interpreta Signore Gesù E poi Leggi C'è l'altro giornale Finanza in chiaro It Cos'è che dice Qui ci spostiamo Però Nella religione Protestanti Cos'è che dice Fedeli in crisi Pastori in crociera La truffa Del Vangelo Della prosperità Chiesa Sono diventati I cimiteri Uscite E dov'è che vanno Quando escono In tutto il mondo A predicare Vangelo Come faccio Andare a tutto il mondo Sono centinaia di nazioni Il mondo E dove sei Se tu vivi a Milano Quello è il tuo mondo Se vivi a Bologna Se vivi a Roma Se vivi a Del Sinche Se vivi in Spagna Se vivi in una zona Bellissima Che si chiama Sud America Dove ci sono ancora I papagali Gli uccellini Sugli alberi I papagali In Europa Sono solo sulle panche Ripetere Le preghiere Adormentate Va bene Dimmi Dopo questi giornali Alzi il dito Volevo chiedere Dopo questi giornali Che abbiamo citato Significa che anche Le religioni Fanno parte Dello spirito di Babilonia Assolutamente Nella misura Che sono lì Adorare il denaro Questo è un giro Di prosperità Protestanti Che dicono Datemi a me Datemi i vostri soldi A me Voglio dire a Dio Ma passa per la mia tasca Naturalmente Dio vi ricambierà Cento volte C'è gente che ci ha graduto E ci sono rovinati Ci sono rovinati Sono rimasti In lastrico E dicono Dove sono le benedizioni E tu non hai fede Tu sei un po' Disgraziato Non hai fede E invece Io ho fede E con i tuoi soldi Mi sono fatto una vedetta al mare E io ho fede E questi sono Questi quelli Non so se possiamo chiamare I figli del diavolo Ma sono la zizzania Cristiana Che vanno in giro Vampiri Travestiti da pastori Protestanti Vangelo della prosperità Che dicono Dio Dio non ha niente Contro il denaro Così me lo prendo tutto io Penso anche Peggio di quello Perché come tu dici Sì alcuni Si sono rovinati Finanziariamente Però peggio di quello È che queste religioni Hanno tanto potere Per aiutare le pecorelle Spiritualmente Però purtroppo Molti di loro Sono solo sotto condanna Cioè questo potere Lo usano per condannare Che se esce dalla chiesa Vai all'inferno Bugia Se esce dalla chiesa Di frate Giuseppe Non vai all'inferno Vai in paradiso Come andavi prima Oh Proprio pochi giorni fa Ho incontrato Una pecora Molto ferita Dalle religioni Si chiama Maria Gesù Che bel nome Maria Gesù Che qui In zona spagnola In lingua spagnola Molti si prendono Con il nome Gesù È bellissimo Ed eravamo in un parco Era martedì Questa settimana Era questa pecorella Seduta su una panca Nel parco E Jasmine L'ha approcciata Con un volantino Perché andavamo A destra a sinistra Evangelizzando Ecco Jasmine Ciao Jasmine Ciao È la dolce testimoniatrice Dimmi E questa ragazza Maria José Aveva 21 anni E Non appena Ho aperto la bocca E ho iniziato A parlare Ho detto qualcosa Del tipo Che la fede Non è una religione Ma è una relazione Lei subito Ha iniziato A aprire gli occhi Grandi A brillare Con i suoi occhi A dire Tenia che scucciare So Cioè Ho dovuto Sentire questo Che la fede Non è una religione Ma è una relazione Cioè Non importa In quale chiesa vai Se vai in una chiesa O no E lei gridava Tenia che Che scucciare So Tenia che scucciare So Era così Entusiasmata Perché Lei ha avuto Delle esperienze Negative Nella sua vita Perché Anni fa Ha avuto una depressione Per un anno intero Ha avuto Una depressione E ha sofferto E ha sofferto tanto Però Alla fine di quell'anno Lei si è messa in ginocchio Da sola E ha pregato a Dio Di aiutarla a uscire E ha detto Che il giorno dopo Tutto era cambiato Tutta la sua vita Era diversa Il Signore proprio Ha risposto Gloria a Dio Però Così contenta Come se Tutta questa Condanna Che da anni Era su di lei E' sparita Abbiamo pregato Con lei Per ricevere Lo Spirito Santo E la salvezza Ed era così Bubbly Così entusiasmata Di questo cambiamento Che ha capito Che non sono Sotto condanna Per via delle religioni E' vero Che le religioni La condannavano Per una cosa Che lei faceva Nel modo giusto La sua relazione Con Gesù Sì 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 Le religioni Sono La maledizione Di sacana Contro la chiesa Le religioni Sono la presenza Del diavolo Cioè Invece La presenza Di Dio E Gesù Lo Spirito Santo La Bibbia Le pecorelle Lì che sono lì Assettate Perché lei ci scrive Ma va Dio è girato A chiese di qua A chiese di là Non trovo Non trovo niente Sì Sì Io vedevo In India Che gli animali Mangiavano Tutti i giorni Nel bidone Delle mondizie Cioè Le chiese Fanno mangiare Le pecore Nel bidone Delle mondizie Della pacchiamama Delle Bugie grandissime Le pecore Si stanno nutriendo Di mondizie Ma lo vedi Che il cristianesimo Sta morendo ogni giorno Il diavolo Ha messo alcuni leader Che sono assatanati Finti leader Perché ci ha attaccato A una croce al collo E hanno studiato In qualche edificio Teologico Ha imparato niente Sono diventati politici Praticamente Grazie a Dio Che pochi sono Ci sono Alcuni pochi Sono buoni Veri E perseguitati Anche Ci sono dei preti Abbiamo degli articoli Qua che stanno Andando in giro Per l'Italia A predicare Contro il pacchiamama E contro Il buco E la siringata E i loro vescovi Li maledicono Li maledicono Così c'è lì Sì Le scomunicano Li chiamano Eretici Cioè I loro vescovi E sono proprio Farisei Con i chiodi E il martello In mano I loro vescovi Comunque In conclusione La conclusione Dello spirito di Babilonia E' andato Spostandosi In base Al quale Fosse Il luogo O la nazione Più malvagia Più ingorda Quindi Ho citato Eva Caino E poi andate giù Per la storia Sodoma Ninive La capitale La Siria Che Dio ha distrutto Tutti e due Poi andate in Egitto Che Babilonia Mi ha spostato In Egitto Che schiavizzava Il popolo di Dio Va bene Per costruire cose Così Così Quindi materialismo Poi Si è spostato Verso l'impero Della Siria Che dominava Tutto il mondo Conosciuto E via Così Fino Passare A certe religioni Come abbiamo detto Alcune cristiane Alcune di queste Le vedete Presenti oggi E così Giungiamo All'era moderna Quindi questa È la storia Di Babilonia Quindi La scrittura Abbiamo letto In quei giornali Cioè Invece di investire In missionari Prendere soldi Delle offerte Di quelle che danno L'offerta Alla madonna Dalle missionari Va bene Vanno a comprare Palazzi a Londra Investimenti Puri al 100% Abbiamo detto Che ha investito 150 milioni E hanno perso 100 Come vedi Non c'è La benedizione Di Dio Comunque Lasciamo perdere Le religioni Che sono Perdi di tempo Continuiamo Con la Bibbia È la scrittura Che abbiamo citato In verso 24 Di Apocalisse 18 Che in lei È stato trovato Il sangue Dei profeti E dei santi Cioè Non vuol dire Che l'America Ha ucciso Tutti quei profeti E i santi Sì È una giusta osservazione L'America È iniziata Nel XVIII secolo E quindi L'America Non può essere colpevole Di Abele No Sangue di Gesù Sul Calvario No Però infatti Non sta parlando Dall'America Sta parlando Di Babilonia Babilonia Adesso È rappresentata Dall'America E l'America Rappresenta Babilonia Non l'America I americani I cristiani I fedeli Che ci sono anche quelli Ma l'America Anticristo L'America Egoista L'America Guerrafondaia L'America Che adora i soldi Che Ci sono Questi ricconi Abbiamo visto Le foto Che ci sono fatti Seppellire In delle bare Di oro Un po' come Faraone Gensiane Sotto le piramidi Le piramidi Erano grandi tombe Stiamo parlando Dall'America L'America Come tutte le cose C'è la presenza Di Dio La presenza Del diavolo Ora in America Sta diventando Sempre di più Come Sodoma Sta diventando Sempre di più Anticristo È pronto È pronto È pronta Quasi pronta Alla distruzione Va bene Quindi è stato Quel spirito È stato quel spirito Di sette Di potere Che ha ucciso I profeti I profeti Sono stati uccisi Sì O per motivi di potere O di soldi Ma di solito potere Il potere Funziona con i soldi E i soldi Funzionano col potere Il denaro Il materialismo Il potere Così è materialismo Potere Il materialismo È di solito Lo stesso Ci sono delle eccezioni Quindi i profeti Che sono stati uccisi Ci sono molti esempi Nella Bibbia Nella Bibbia Nel testamento Che Compreso Gesù Sono stati uccisi Perché questi qua Facevano Toglievano Il potere Alle capre Alle zizzani Agli anticristo Va bene E raggiungevano Le pecorelle Ora Quelle al potere Dice no E no Così mi fa perdere potere Parentesi Soldi Il materialismo Il potere E li uccidevano Come oggi Noi Ed altri Come noi Meglio di noi Predichiamo Contro il sistema Dalla banda del buco La banda della siringa Questi avvoltoi Che vanno in giro Pensano solo A far arricchire Le multinazionali Che gli danno Delle briciole Abbondanti A questi politici E ci perseguire Da noi E da altri Come noi Che non vogliamo Facci bucare Eh ma se non Vi buchiamo Le farmaceutiche Non ci danno Le bustarelle Cioè praticamente Questo Se vogliamo tradurre Quello che sta succedendo I politici Che ricevono Il potere Perché ci sono Per esempio In Italia C'è l'MS5 Loro sanno Che alla prossima votazione Loro Vengono quasi cancellati Dallo spettro politico Quindi finché ci siamo Arraffiamo Più che possiamo Perché poi Sanno Quando arriva al voto E perdono Gloria a Dio Gloria al Signore Gloria al Signore Allora Abbiamo capito L'Apocalisse 17-18 La donna Che è veduta La gran città Che impera Sui re della terra Quindi abbiamo spiegato Qui c'è Ho messo un paio di Cartoons Di vignette Cereali Sì Che ho fatto un pochettino Col Photoshop C'è uno Un multinazionalista Che fa colazione Con la forchetta E un piatto pieno di soldi Ecco E c'è scritto Multinazionali Poi c'è un'altra vignetta Uno in cima Una catasta Di 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 Amolizione Un'altra vignetta Controlla Controlla effettivamente Sui media Sui soldi Sui soldi Sul dollaro Sul materialismo Pervertito Sfrenato Quindi Di fatto L'America Babilonia Contamina Impera Impera Bene A imitare la sua corsa Imitare la corsa americana Verso L'arricchimento Quindi Adempiendo la scrittura Forse sia La grande città Che impera Sui re della terra Non attraverso gli eserciti Come Roma Come La Grecia Medioperse No Quella è una cosa marginale Gli eserciti americani No Le cose sono cambiate Loro controllo Nel mondo Attraverso il materialismo Adesso La tecnologia I media Le televisioni Il commercio Però Il signore Gli ha tolto La predizione Adesso la Cina La Cina La sta superando L'Europa La sta abbandonando Va bene Quindi l'America È una nazione Che praticamente Ha insegnato A tutti I re della terra Come dice La profezia E ha insegnato Ai governi Alle nazioni Ad adorare il materialismo In quest'era moderna Se ci guardiamo intorno Questa nazione Può essere solo l'America Non è l'Arabia Saudita Va bene Comunque Preferisco rispondere a fondro Perché magari Ci sono altri fratelli Che hanno scritto Ma guarda che è la Turchia L'anticristo Viene dalla Turchia No 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 Andate Non guardate Ai giornali I giornali Dicono questo Specialmente la propaganda Ebraica Israeliana Dice che viene Della Turchia Perché ce l'hanno Con la Turchia Ma non va Con le profezie Questa nazione Può essere solo l'America Va bene Come Come giustamente Come giustamente Le nazioni islamiche La chiamano l'America Com'è che la chiamano Com'è che le nazioni islamiche Cominciano con la Persia Che oggi è l'Iran Com'è che le chiamano L'America La chiamano La grande Satana Questo è il nome Che in Iran L'America Si chiama la grande Satana Molto simbolico Ma io sono d'accordissimo Su questo Ma Dio li benedica Per questa terminologia È veramente vero È la grande Satana Cioè la Babilonia Gli islamici L'hanno proprio Imbraccata giusta Hanno ragione Vero sì Nessuno ha sempre torto Va bene Nessuno ha sempre ragione Tranne Gesù E chi lo segue Quindi l'America Non ha bisogno Di essere un impero Militare mondiale Il suo materialismo Materialismo pervertito Il suo sistema Che io chiamo Schiavizzazione bancaria Cioè tramite Conoscete Il Fondo Monetario Internazionale La Banca Mondiale Che sono Le due braccia Di Babilonia Oggi E ha pervaso Tutto il mondo E quindi Impera Sui re Della terra Ci siamo? Sì Ma non so se ho coperto tutto Fratelli Le domande Scriveteci Io credo di sì Hai spiegato Perché la Babilonia E l'America Visto che si tratta È stato trovato in lei In Babilonia Cosa vuol dire? Non è l'America Che l'America Nonostante Super malvagia È cominciato solo Nel XVIII secolo E allora Come fa tutto Sangue dei profeti Perché sta parlando Di Babilonia E lo spirito Che esisteva Ai tempi Del giardino Ai tempi Che Satana Offre il frutto A Deva Sta parlando Di quello È un demone Il diavolo C'è un mondo diviso In principati C'è il principato Della droga Il principato Della politica Il principato Di Bruxelles Il principato Di Draghi È la sua banca E c'è il principato Dei soldi Di Baal Di Mammona Che oggi si chiama Materialismo D'accordo? Sì D'accordo Sì Altra domanda? No Per me no E allora mi fermo Sì Contenta te Contenti tutti Allora facciamo una pausa Con un bel canto Sul rapimento I giorni di Elia Andiamo Allora facciamo una pausa Come dei giorni di Elia La gloria di Dio scenderà E come Musefo All'altro Noi andremo per questa città Il mezzo al peccato che avanza Fra tenebre e malvagità Noi siamo una voce che grida Presto prepara la via del Signor Gesù verrà E nel suo splendor Sulle nuvole Lui ci rapirà Così gridiamo Nel giorno del Signor Nel nome di Gesù Salvatissiamo Oh 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 Re Davide e noi saremo un tempio di lode per te, giorni di lotta e preghiera, però la raccolta ferrà, E' tempo di grande risvegno, vi dà il regno di Dio in mezzo a noi, Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, Lui ci rapirà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Nessun altro è come Dio Nessun altro è come Dio Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, Lui ci rapirà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, Lui ci rapirà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, Lui ci rapirà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, Lui ci rapirà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà, così gridiamo, nel giorno del Signor, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù salvati siamo.